Qui davvero molto positiva, non possono nascondersi l'obiettivo e la vittoria del titolo. Comincia così la partita. Occhio al suo movimento. Ha perso il pallone. Modric. Guadagna metri. Guadagna metri verso l'area. Difesa un po' in difficoltà qui, non riesce a spazzare. Recupera la palla, intercettando bene il pallone. Ecco il tiro. Pallone che finisce in angolo. Alla messa in mezzo. Ci sono metri a disposizione. Puntuale qui il difensore nel recupero. Mascherano. Maggio. Modric. C'è spazio per andare. Grande chiusura difensiva. Assa. Gelli. L'arbitro dice che si può giocare. Sì, corretto. Trash. Si scambiano bene ripetutamente il pallone. Sarà fallo laterale. Baragna metri. Hanno l'occasione per passare in vantaggio. Poteva aprire le marcature qui, ma ha graziato il portiere. Beh, sì, non è stata una conclusione all'altezza. Poteva fare decisamente meglio in questa circostanza. Modric. Può sfruttare lo spazio lungo la corsia. La mette in mezzo con questo pallone. Ha punito l'area concedendo il calcio d'angolo. Palla verso il centro dell'area. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Concede la touche. Rimessa con le mani. Hanno gettato al vento questa rimessa regalando il pallone agli avversari. Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Occhio, cerca l'area di rigore. Gioco che riprenderà dunque con la rimessa del portiere. Ecco che ci viene riproposta la parata di prima. Bel tiro, un gran bel tiro, ma il portiere ha risposto da campione. Si riprenderà con un fallo laterale. Modric. Modric. Si avvicina all'area. Sarà corner a disposizione. Calcio d'angolo battuto. Palla in mezzo. Pallone assolutamente fuori portata questa. Corner troppo lungo. Si ripartirà con una rimessa dal fondo. Recupera il pallone con un intervento facile. All'interessante dello spazio. Alla messa dentro. Un tiro davvero inguardabile. Nel resto. Asà. Vantaggio dunque si gioca. Bravo Dardy. Trash. Palla controllata dalla difesa. Attenzione al pressing. Intervento tempestivo del difensore che traccetta il passaggio. Giali. Interrompe bene l'azione. Intercettando il lancio. Punta l'area. C'è la parata sicura del portiere che blocca il pallone. De Rossi. De Rossi. Ottima la chiusura. Fermazione. Intercettando la chiusura. Intercettando la chiusura. Altissimo. Mamma mia. Asà. Maragna-Vetri. Interrompono bene l'azione. Trash. Asà. Ci sarà rimesso laterale da buona posizione. Il tocco dentro. Spazzano via il pallone. C'è spazio per andare. Tutto fermo. Tutto fermo. C'è fuori gioco. Il pubblico di casa non sembra per niente soddisfatto delle perdite di tempo della squadra ospite che vuole guadagnare qualche secondo. L'allenatore lo ha fatto presente più volte all'arbitro il quale mi pare abbia fatto cenni ampi che recupererà tutto al termine della partita. Garagna-Vetri verso l'area. E l'arbitro... L'arbitro dà il via alla seconda metà della gara. Termo l'azione. Recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Prova la botta. Efficace qui l'intervento del portiere. Bravo. Resta dunque sullo 0-0. Ci sono metri a disposizione. Hanno l'occasione per passare in vantaggio. Hanno aperto le marcature con questo gol e vedremo se avranno altri spazi per continuare a colpire. Non credo sia finita qui. Mi aspetto una reazione versaria. Dovranno sudare. Se vogliono portare a casa la vittoria. Replay che ci permette di apprezzare il bel movimento dell'attaccante. Un gioco da ragazzi. Metterla dentro da quella distanza. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro. 1-0. Occhio cerca l'area di rigore. Manovra interrotta dagli avversari. Maggio. Fermano la manovra avversaria. Modric. De Rossi. Si abbassa l'attaccante per ricevere palla. Si avvicina all'area. Può metterla in area. Ha spazzato via e concesso il fallo laterale. Bravi qui a bloccare tutto. Mascherano. Gialet. Trish. Asà. Il risultato favorevole gli consente di gestire il pallone e giocare con il cronometro. Punta l'area. Maggio. Cerca addirittura la porta. Approvato con potenza dalla distanza. L'idea non era neanche male. L'esecuzione molto meno. E il portiere accompagna la palla fuori con lo sguardo. Senza giustamente intervenire. Aspetta l'arrivo dei compagni. Rischia grosso qui. L'arbitro che si avvicina. È arrivato il cartellino giallo per lui. Sensazione che se lo aspettasse Pier. Arrivano i fischi dal settore ospite. Ovviamente nei confronti della squadra di casa che sta in effetti guadagnando un po' di tempo. Stanno cercando di difendere il vantaggio con tutti i mezzi. Le perdite di tempo fanno parte del gioco. Ma capisco che possono stizzire chi le subisce. Gelli. Baragna metri. Hanno provato a sfondare per die centrali ma sono stati fermati. Ha recuperato il pallone senza difficoltà. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Occhio al suo movimento. Trova addirittura la conclusione. E il pallone esce di pochissimo. Mancano 20 minuti alla fine. Buono il recupero. Possono ricominciare. L'arbitro facendo di proseguire c'è qualche dubbio. Beh, da rivedere. Ha perso il pallone. Bravo qui il difensore. Recupera un buon pallone. Trash. Continua a offrire grandi palloni ai compagni. Il tocco di testa. Modric. De Rossi. C'è spazio per andare. Si immola il difensore. Maggio. Apre sulla fascia. Interrompe bene l'azione intercettando il lancio. Tocco di ritorno. Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Occhio cerca l'area di rigore. C'è il tocco sulla fascia. Li salta come Birilli. All'ottana di pugno è il portiere. Mancano 10 minuti alla fine della gara. E il pallone se ne va via. Arbitro che concede il vattaggio. Si. Scelta giusta. Trash. Riesco a malapena a sentire la mia voce. Perché il pubblico di casa sa che questa può essere la svolta della gara. E la quantità di decibel è cresciuta a dismisura. Stanno letteralmente trascinando la loro squadra verso il gol. Cambierebbe il risultato. Perde palla. Intervento pulito sulla palla. Maggio. Per l'arbitro non è fallo questo. Dopo forse avremo modo di rivedere. Spazzano via il pallone. Manca poco al termine della gara. Partita non è ancora chiusa. Vedremo che cosa ci regaleranno questi minuti finali. Cerca il lancio lungo a scavalcare la difesa. Il pallone è stato indicato. Ottimo intervento. Provano a caccia del gol del pari. È stato fermato dal difensore. Intervento comodo della difesa. Non c'è più tempo. Arbitro che manda le squadre e gli sfogliatoi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.